Vanno i tuoi occhi? Male. Ma ci vedi? Quanto basta? Come vanno le tue gambe? Male. Ma cammini? Vado, vengo. Nella mia casa. Un giorno sarai cieco, come me. Sarai seduto in qualche luogo, un piccolo pieno perduto nel vuoto, per sempre, nel buio, come me. Un giorno direi a te stesso, sono stanco, vado a sedere. E andrai a sederti. Poi direi a te stesso, ho fame, ora mi alzo e mi preparo da mangiare. Ma non ti alzerai. Direi a te stesso, ho fatto male a sedermi, ma visto che mi sono seduto, resterò seduto ancora un poco. Dopo mi alzerò e mi preparerò da mangiare. Ma non ti alzerai e non ti preparerai da mangiare. Guarderai il muro per un po'. E poi direi a te stesso, ora chiuderò gli occhi. Forse dormirò un poco, dopo andrò meglio. E li chiuderai. E quando li riaprirai il muro non ci sarà più.